Questa è la riforma pensionistica con questi principi, e poi ci sono i vincoli finanziari I vincoli finanziari oggi sono severissimi, allora nessuna riforma pensionistica dà l'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione rispari, 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 rispari Perché il sistema pensionistico è il meccanismo lungo, tra le cederazioni E allora abbiamo dovuto, questo sì che ci è costato, anche psicologicamente, chiedere Grazie a tutti Grazie a tutti